Salve a tutti ragazzi, sempre per Zorbet e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Pokémon Rosso. Andiamo a vedere un attimo i miei Pokémon come stanno, stanno tutti male, volevo dire tutti bene invece devo dire, mi tocca dire tutti male perché nello scorso episodio sono andato a battere il capo palestra, Blaine, e l'ho battuto senza troppa difficoltà come avete visto, infatti l'ho battuto senza mai andare al centro Pokémon, quindi insomma perfetto devo dire la verità, siamo stati davvero bravissimi. Oggi c'era un punto della mappa, raga, che mi ero scordato di perlustrare, ovvero andiamo a vedere un attimino se lo ritrovo perché non mi ricordo molto bene, dovrebbe essere questo punto qui, scusate se ve lo indico con il mouse, e questo, forse più che altro questo qui, vedete questo percorsino qui, non so di preciso, dovrebbe essere tipo il 15, quindi andiamo a Fuxiapoli molto molto rapidamente, non ho fatto un sacco di cose durante questo gameplay, raga, non ho fatto davvero tantissime cose, ho esplorato, più o meno i posti segreti li ho esplorati tutti, ma non ho preso tanti strumenti, non ho fatto tante 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 cose, raga, vabbè, comunque non importa, visto che questo era un gameplay un pochino così alla cazzo, tipo anche questi tipi non l'avevo affrontati per una questione di completezza, anche se ormai, ragazzi, diciamo che se volevo completare il gioco facevo, diciamo, un altro tipo, ecco, di serie, però l'ho fatta molto a scazzo, ragazzi, assolutamente, questo ve lo devo proprio riconoscere, però, insomma, tanto che ci siamo, battiamo un pochino, questi allenatori del cazzo qui, veniamo qui con la moto perché c'è più spazio, ma dove c'è più spazio? che sei in mezzo, madonna ragazzi, agli alberi e alle seghe, anche perché questi motociclisti li voglio proprio sterminare, visto che mi stanno proprio sul culo, quindi mettiamo Hypno, per favore, che agita il suo ciondolino, madonna ragazzi, onda d'urto clamorosa, vengono spazzati via da Milano fino a Bari proprio, ragazzi, guardatela, che cazzo di onda d'urto, sale pure a livello 45, grandissimo Hypno, volatilizzati, che cazzo ha detto? sto scemo come si permette, vabbè comunque entriamo in questo percorso ed è qui infatti che avevamo da affrontare un sacco di nemici, di allenatori, si vendono MT ad Azzurropoli, le MN invece sono rare, la mia risposta è questa, ah che dolore, hai insegnato il volo ai tuoi pokemon uccello? ce n'ho uno di uccello, no scusate due, però uno sa volo e quell'altro nooo... mamma mia signori, gelo raggio ragazzi di Nido King è veramente spaventosissimo, veramente qualcosa di assurdo, questo è percorso 14, fuxiacoli a ovest, a me mi pare più a sud che a ovest, comunque va bene, non importa, andiamo avanti, qui c'è un po' una sorta di labirinto, come vedete ci sono dei combattimenti obbligati, i suoi pokemon uccello sono pronti a lottare, trovate un gruppo di abicoltori, se avete un pokemon di tipo gelo, come vedete se avete una mossa di tipo gelo, elettricità, insomma, lotta, potete fare il culo veramente a tutti, no, lotta no forse, però insomma tutto il resto si, hanno molte debolezze questi pokemon volanti, devo dire la verità, quindi insomma è molto facile batterli. Grazie a tutti! Tra l'altro ragazzi ho acquistato molto recentemente una Switch, voi state vedendo questi video di pokemon rosso poco dopo, ecco che li ho registrati molto probabilmente in questi mesi diciamo, agosto, settembre, più che altro ad agosto si l'ho comprata, poi ho iniziato ad utilizzarla più verso settembre, però comunque ho acquistato una Switch, ho anche provato il nuovo pokemon, che non è nuovo in realtà, pokemon diamante splendente, devo dire che non è per nulla male, mi piace, mi piace come gioco, anche questa grafica cibi, kibi, come si dica, insomma, non lo so, con i popini, insomma molto carini, molto con la testa enorme e il corpo piccolino, mi piacciono molto, devo dire, e alla fine diamante e perla sono uno, non sono proprio giochi della mia infanzia, visto che comunque già ero ragazzino, non dico che avevo smesso di giocare a pokemon, però comunque non è che ci giocavo poi più di tanto, li ho avuti comunque tutte e due, se davanti sia perla per il DS, e sicuramente un sacco di nostalgia, ecco, e mi stanno garbando, mi stanno garbando veramente parecchio, devo dire la verità. Adesso proverò anche Scarlatto probabilmente e Violetta, anche per quelli sono abbastanza curioso, Tengo il po' come un uccello, sempre con me. Ovviamente per quest'area siamo fin troppo overleveled, ho le pile scariche, ok. Qui ovviamente c'era qualcosa, un pp su, che aumenta il pp di qualche mossa, quindi bisogna utilizzarlo molto, molto, molto coscientemente. Guarda a sinistra del cartello. Ah, ok. Guarda, guarda a sinistra del cartello. Cazzo c'è? O intendeva qui semplicemente? Non lo so sinceramente che cazzo voleva dire ragazzi, boh non lo so. Ah, forse, madonna, no, i miei cari Pokémon vogliono conoscerti. Ma io no, ma io no, che cazzo me ne frega di te. Ma quanti cazzo sono? Proviamo a vedere qui se c'era qualcosa. Ah, ok, intendeva a sinistra nel senso, a sinistra, sì, del cartello proprio. Vabbè, avete capito, va benissimo, dai, 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 dai. Ponte silenzio a nord. Che cazzo di... Che cazzo di ponte è questo? Non l'ho mai sentito. Vabbè, intanto giochiamo con questa prostituta qui. Scusate però, insomma. Ah, mori sveglia, ti dio bono. Madonnina, quando, quando... Ma guarda là, guarda là, guarda là, minimizzazione qui. Ma che cazzo me ne fotte? Muori, cioè, ti schiaccio col piede io, ragazzi, se ti minimizzi. Cazzo, ma lo sai? Non ho mai capito. Minimizzazione, boh, forse aumenta l'illusione, non lo so. Fatto sta che puoi schivare colpi più velocemente da piccolino. Però, insomma, vabbè, abbiamo battuto la bellezza al bagno con sti. Certo che giocherò con te, ma non voglio giocare con te. Dio Cristo! Poi sei adulta, dio, ma non sei una ragazzina, dio bono. C'hai la minigonna, sei vestita proprio da discoteca, sei vestita. Che cazzo vuoi giocare, dio bono? Cioè, guarda là, veramente, andata a... Cioè, vestita poi andata a ballare in discoteca. Essere sprecevole, ma la tua mamma, essere sprecevole. Ma va, te la prende in culo, vai. Usa select per spostare gli strumenti. Nella fine... Non ci credo! Ma ti me lo dici ora, vaffanculo? No, dai, non ci posso credere, signori. E però? No, vabbè ragazzi, ma non me lo dite, per favore. Non me lo dite, dio ragazzi, madonna. No, non lo sapevo, non l'ho mai saputo. Non l'ho mai saputo tutto questo. Peccato, peccato, devo dire la verità, perché l'avrei utilizzato prima. Infatti mi sembrava strano, non ci fosse un modo, almeno un modo per spostare questi cazzo di strumenti. Boh, vabbè, è così. La vita purtroppo ti riserva strane sorprese, vero? Fatto stack, abbiamo sfidato questa qui? Sì, abbiamo sfidato. Dovrei aver sfidato tutti, anche perché in questo punto c'erano già stato. In realtà no, ci mancano questi due. Che palle! Dicono che sono brava, anche se sono una bambina. Sta a vedere? Bambina vestita da... Ah no, ok. Te sei una bambina veramente, probabilmente, ok. Grazie a tutti. Assorbo, madonna, ragazzi. Oh, dai, finiti. Non ne posso più, veramente, bimbi. È stato un combattimento assurdo. Probabilmente c'avevo da sfidare anche molti di questi coglioni qui. Vediamo un attimino se riesco a prendere. Tanto ovviamente si deve affrontare questo pescatore. Volevo prendere almeno quella Pokéball per vedere di cosa si trattava. Tanto qui c'è il Nidoking che non è molto adatto. Mettiamo, va, il Plume, va. Ho perso, ho perso, si è perso. Vediamo un pochino. Un ferro. Benissimo. Cose inutile totalmente. Vabbè, ora le do tutte comunque a miei Pokémini. Vediamo un attimino. Chi le posso dare? Qui c'era una roba da affrontare? No, in realtà non c'era molto da affrontare. Vediamo un attimino. Vabbè, qui si ritorna indietro. A Post. Devo dire a Post. Allora, ho affrontato quest'area giusto così per completezza. Adesso, spero che questa parte del video sia avvenuta abbastanza breve. Possiamo dire. Volevo andare. Volevo andare. Volevo andare. Vediamo un attimo se riesco in qualche modo a Celestopoli. Vediamo un attimino se è questa la vera via. Innanzitutto c'è da fare una cosa estremamente importante, ovvero controllare quante Ultra Ball abbiamo. Abbiamo solo due Ultra Ball. Non va bene per nulla. Quindi bisogna rivolare da un'altra parte. Tipo nell'Isola Cannella, in modo appunto da comprare delle Ultra Ball. Lì siamo sicuri che ce l'hanno. E ne compriamo, io direi ragazzi, c'ho 210.000 soldi, non siamo tirchi e ne compriamo una ventina. Secondo me va benissimo. Si prendono anche una decina di Mega Balls, poi se non bastano sti cazzi. E qui non vendono Poké Ball, quindi ce lo prendiamo in quel posto. Però per ora va benissimo così. Rivoliamo fino a Celestopoli. Avete già capito probabilmente quello che facciamo in questo episodio, a parte questa piccola divagazione, possiamo dire, che abbiamo fatto in questo percorso 14, che era 15, non lo so. Quanto sta che... Sì, siamo andati un pochino lì a sterminare gli allenatori rimasti. Però quello che bisogna fare veramente in questo episodio è andare nella centrale elettrica. Luogo di culto, possiamo dire, del mondo dei Pokémon. Perché lì... E della regione di Canto in particolare, perché lì si trova uno... Anzi, il primo in realtà Pokémon leggendario che potete prendere, ovvero, che potete catturare, ovvero Zapdos. Uno degli uccelli leggendari, ovviamente. Uno degli uccelli leggendari. E qui fate surf. Ragazzi, semplicemente, poi potete attraccare qua. Potete sfidare il tipo. Ehi, sei anche tu un po' che fa noti? Sì, insomma. Ecco qui, molto, molto emo, veramente, questo Poké fanatico. Qui Nidokin però non è il Pokémon adatto, devo dire la verità. Anzi sì, per quale motivo no. Ma voglia che è il Pokémon adatto. Una tonna. No, dai, dai. Madò, guarda là, guarda là, guarda là ora, eh. Guarda lì che giochino ora che si fa. No, pensavo. Perfetto, battuto Poké fanatico. Puh, non ho fame. Non ho capito io, ragazzi, vabbè. Centrale elettrica. Ecco qua, una banalissima centrale elettrica nel bel mezzo del nulla. Eh, veramente, poi, io non so, i dipendenti ci devono avere tutti i surf per arrivarci. Visto che qui la strada è bloccata. Non si sa perché, veramente, la scomodità, no, del mondo dei Pokémon questa. Vabbè, è una centrale elettrica chiaramente abbandonata. Quindi, perfetto. Ci saranno sicuramente una marea di oggetti che non potremmo prendere. Perché saremo pieni, veramente, a brevissimo. Però noi continuiamo. Eh, come vedete, ci sono anche un sacco di Poké Ball. E un Pikachu, troviamo anche, come vedete, il livello 24. Qui ci potevate andare anche, insomma, appena sbloccavate il surf, ci potevate andare subito. Quindi, appena, ehm, appena battuta Sabrina, mi sembra. No, che cazzo dico, Koga. Appare però Voltorb, selvatico. Attenzione che questa è a 40, eh, bimbi. Quindi state veramente molto attenti a questo Voltorb. È veramente fortissimo, quasi, quasi. Se lo volete catturare, ecco, sicuramente conviene catturarlo qui, visto che è già a 40. Basta un livellino, no, che basta, la pietra a tuono? Eh, non mi ricordo. E si evolve in Electrode. Eh, qui ci sono un sacco di, eh, Poké Ball che sembrano Poké Ball. Sembrano oggetti. Innoqui, in realtà, sono palle, ragazzi. Sono Voltorb. Voltorb, esatto, sì, sì, sì. Quindi, insomma, state molto attenti, sarà accorta, anche perché sono a 40 per davvero. Non è poco, eh. Sarebbe bellissimo, raga. Qui, tra l'altro, troviamo anche Magnemite se lo volete catturare. Io non credo l'abbiamo catturato. Quindi, se ci riesco, ma tanto non penso di riuscirci, visto che, quasi, attacco uso, lo killo subito. Come dicevo, che sarebbe bellissimo, anzi, bruttissimo. Veramente, mi metterei, penso, a piangere o a ridere. Non lo so, dipende dai casi. Se, catturando Zapdos, mi dicesse il gioco, che non abbiamo più spazio nel box 2, sarebbe veramente qualcosa di assurdo. Le bestemmie, penso, in quel... Madonnina, ragazzi, le bestemmie, penso, pioccherebbero come poche, veramente. Però, speriamo che non accada una cosa del genere. Spero di avere un po' più di spazio, ecco, possiamo dire così. Bello! Oh, vedete che qui c'è un Electabuzz. Quindi, insomma, qui subito lo voglio catturare, raga, subitissimo proprio. Quindi, andiamo a selezionare Hypno, assolutamente. Subito una bella Hypnosi, devo dire la verità. Però, sempre che su... Oh, Dio santo, finalmente, perfetto. E qui si utilizza, ovviamente, una Pokéball, anche una Megaball. In realtà, utilizzerei più una Pokéball, visto che ci siamo. Scappa, eh. Ma una Pokéball normale ci si fa a catturarlo. No, eh, ma... Che palle. Si utilizzerà una Megaball, su. Oh, andiamo. Ora, sta a vedere che utilizzo tutte le Pokéball solo per Electabuzz, sta a vedere. Mi utilizzo anche un Ultraball, però me lo devi prendere al primo colpo. Eh, sì, me l'ha preso con un Ultraball, effettivamente, sì. Benissimo, hai preso Electabuzz. Aggiornamento, eccetera. Pokémon elettrico, normalmente, vive vicino a centrali elettriche, ma va e se si allontana, può causare blackout grave in città. Ah, madonna, ragazzi, e che... Quanta elettricità proprio porta nel suo corpo. MT25, perfetto, abbiamo trovata. Questo sarà un Voltorb, esatto. Non so se... non mi ricordo se si può trovare anche degli Electrode, eh, in realtà. Penso di sì, comunque. Si prosegue qui, è pieno zeppo di stanzine. Mamma mia, anche troppe. Era meglio se mi portavo un bel... Ecco, non ho più spazio per altri strumenti, qui subito. Bisogna dare il vari ferro, carburante, calcio alla gente immediatamente. Si dà, tipo, il... questo speciale di Nido King sale, sì, ci sta. Poi si dà il... ma perché c'ho la chiave segreta ancora per quale motivo? Questo è fuoco bomba, ok. No. PP su si può dare a... ma che cazzo ne so, raga? Boh, non lo so. Nido King. E aumentiamo i PP di quale mossa? Frana, surfing coin... E corretta c'è l'oraggio. Aspetta, aspettiamo un secondo, allora. Il carburante... Ah, va il plum. La velocità sale. Benissimo. Questa mette il 25 contiene tuono, eh, tra l'altro. Quindi, insomma, occhio. Potrebbe essere molto, molto buona. Riflesso. No, riflesso veramente non la voglio insegnare. Va... va benissimo. Dai, possiamo prenderci una caramella rara. Vabbè, sti cazzi. Oh, qui c'è un electrode, invece. Al 43, se vi interessa, insomma. Ci siamo quasi, secondo me. Ci siamo quasi, eh. Secondo me, eccolo. Allora, avevo da esplorare tantissime altre stanze. Magari ci vado in un secondo momento. Però adesso voglio veramente concentrarmi sul... Su Zapdos. Quindi, ovviamente, il classico trucco, cosa si fa prima di catturare un leggendario? Si salva, chiaramente, in modo che poi, se lo uccidiamo accidentalmente o finiamo le Poké Ball, ricarichiamo il salvataggio. Quindi, raga, adesso salverò assolutamente. Immediatamente salvo. Eh, questo è proprio necessario. E andiamo subito. Proviamo subito a vedere. Ecco, subito trova un nemico. Electabast tra l'altro. Benissimo. E proviamo subito a vedere. Qui, tra l'altro, c'è un'uscita, probabilmente. Vediamo che cosa sa fare. Yuhu! Ma che cazzo è sto verso? Vabbè, comunque, eccolo qui. Zapdos, mamma mia. Al 50. Madonnina, ragazzi. È più forte di noi, tra l'altro. Quindi stiamo veramente bene attenti. Proviamo subito con un'incornata. Sa vedere. Ah, va bene. M'aspettavo molto meglio. Proviamo Frana. Perfetto. Niente, dai. Cazzo faccio, riavvio il gioco. Purtroppo è andata così. Ho dovuto riavviare il gioco. Eh, chiaramente. Vediamo un pochino adesso se con una Frana normale riusciamo a toglierli magari non tutta la vita. Su, magari non brutto colpo. Ok, è super efficace, però perlomeno ci siamo. Un'altra incornata. Adesso mi puoi fare il brutto colpo. Un'altra incornata. Non mi puoi fare il brutto colpo. Perfetto. Top. Va bene. Va benissimo. Nidoking è esausto. Utilizziamo Hypno. Adesso. E chiaramente si utilizza subito l'ipnosi. Spero che non ci one-shotta. Però no. Però si paralizza. Ma vaffanculo. Già che l'ipnosi fa effetto una volta. Sì, una volta no. Su. No, eh. No, eh. Ok. L'abbiamo ipnotizzato. Va benissimo. Allora, qui raga si va subito di Ultra Ball. È inutile... È proprio inutile veramente utilizzare altre Balls. Infatti, sì, questo si libera subito. Mamma mia, signori. Sarà veramente un patema catturarlo. Ecco. Bisogna avere un culo pazzesco. Quindi, insomma, proviamo a lanciargli tutto quello che abbiamo. Finché dorme, insomma. Una tacchettina di vita. È addormentato. Se non lo catturiamo così, veramente, siamo dei trimoni. Però, per Forbeco, questo ci è one shot. Ecco, sicuramente. Perfetto. A utilizzare un altro, sì. Si utilizza Vileplume. Perfetto. Cioè, è l'unico. È l'unico, ovviamente, che si può utilizzare. Perché utilizza Sonnifero. Un Sonnifero. Però qui, ecco. Magari, grande, grande Vileplume. Dai. No, raga. È impossibile, veramente. Proviamo a cambiare Pokéball. Mettiamo una Pokéball normale, ma... Eh, no, no. È veramente devastante, cazzo. No, vabbè. No, vabbè, signori. Catturato Zapdos con una Pokéball normale. Cioè, gli ho lanciato 10, amma anche di più, 12 Ultra Ball. Niente, una Pokéball normale catturato alla terza volta. Al terzo tentativo con una Pokéball normale. Veramente, qualcosa di allucinante. Ho preso Zapdos. Lo posso mettere nel box, fortunatamente. Buccello è leggendario, si dice, appaia. Tra le nuvole, scagliando enormi saette. Oh, non diamo il soprannome, ovviamente. Trasferito al PC di Vile, meno male, lo possiamo prendere. Ed abbiamo Zapdos, signori. Che felicità, veramente. Usciamo da questo buco di culo di merda. Se volete, ci potete ritornare per prendere tutti gli altri oggetti. Io non lo so se ci ritornerò, sinceramente. Forse con un repellente Max ci potrei ritornare. Con un po' più di spazio nello zaino, perché altrimenti, veramente, se no, devo stare tutte le volte a consumare gli oggetti per prenderne di nuovi. Quindi, veramente, non mi conviene questa cosa. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo catturato Zapdos, il nostro primo leggendario. Mamma mia, come sono felice. Probabilmente non l'utilizzerò mai, però, sti cazzi, l'abbiamo preso. Per questo video è tutto. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, mettete un bellissimo like, iscrivetevi e commentate se volete supportare il mio canale. Dai, ragazzi, iscrivetevi. Da Paperusorbet è tutto. Ci vediamo nel prossimo episodio di Pokémon Rosso. Ciao a tutti.